entrambe le staffe quindi possono essere montate su tre lati della pulsantiera dalla centralina come vi dicevo prima partono altri tre piccoli fili tengo premuto per due secondi inizia a fare un effetto strobo mi pare estremamente tanta roba a potenza di fuoco siamo decisamente messi bene diciamo che questa è senza e queste con adesso vi dico cosa c'è qui dentro ragazzi buonasera bentornati o benvenuti sul canale come vedete qui davanti a me c'è un pacco che secondo me interesserà parecchi di voi faccio questa promessa perché perché in tanti mi avete scritto sui social in merito all'argomento fari supplementari ai faretti che avevo presentato nei video precedenti abbiamo parlato degli sm 6 1 2 1 sm 7 1 2 1 sm 4 1 2 3 ed sm s 1 2 1 s cosa c'è qui dentro lo volete sapere qui dentro c'è una novità sercomoto che non è ancora stata presentata neanche sul loro sito a questo punto non resta che armarsi di forbici ed aprire il pacco e voilà all'interno del pacco troviamo la solita imbottitura che serve a protezione del prodotto troviamo due adesivi sercomoto e troviamo il cuore di quello che è il prodotto stesso ovvero una centralina poi vi spiegherò tutti i dettagli il nuovo prodotto che non troverete neanche sul sito sercomoto è esattamente questo qui un gioiello di potenza sm 10 12 sd questo è il nome del prodotto andiamo ad aprirlo ci sono ben 10 led all'interno a un diametro di 13 cm ovviamente oltre al faro questa qui è la staffa che tiene il faro stesso è una staffa estremamente solida rigorosamente in alluminio questa si andrà ad ancorare esattamente così qua qua e questa va ad ancorarsi alla staffa sm 1250 in realtà questi sono due pacchi impilati uno sull'altro e tenuti insieme da un adesivo proprio per le dimensioni del faro stesso allora andiamo nella seconda scatola andiamo a vedere cosa c'è nel secondo pacco immagino che ci sia l'altro faro sarà la minuteria ed altro che occorrerà per il montaggio protezione c'è tutta la minuteria c'è la staffa di quello che è l'interruttore che poi vedremo meglio con calma e poi ci sono le viti che servono per tenere il faro ancorato alla propria staffa c'è l'altra staffa per l'altro faro ed ecco l'altro 10 12 sd che adesso andremo ad aprire è veramente veramente impressionante molto molto bello rifinito è tutto rigorosamente in alluminio neanche a dirlo è impermeabile ip68 ci sono 7 led a cornice e 3 led all'interno totale di 10 led e dovrebbe avere una una potenza di fuoco veramente veramente incredibile poi lo vedremo allora questo è tutto quello che c'era dentro le due scatola che ne abbiamo detti due fari le due staffe la viteria relativa alle staffe e il cablaggio il cablaggio poi questo qui è un impulsante e queste qui sono le varie staffe possibile mettere sia su questo lato sia su questo e sia di qua quindi si può mettere 1 2 e 3 c'è sia l'attacco diciamo a 90 gradi e c'è anche quest'altro che è dritto che permette l'ancoraggio della pulsantiera direttamente alla base dello specchietto e entrambe le staffe quindi possono essere montate su tre lati della pulsantiera vi dicevo del pulsante il pulsante perché è particolare perché come vedete è una rotella e adesso vi spiego anche il perché questa centralina ha diverse funzioni ed è molto particolare perché a differenza delle altre che hanno dei pulsanti questa ha una rotella che gira sia in senso orario sia in senso orario perché la centralina sm002d qual è la particolarità che vi permette di dare potenza ai fari dal 10% al 100% secondo di quella che vi serve potete regolare tramite questa rotella la potenza del faro stesso una volta scelta la potenza quella resta memorizzata all'interno della centralina poi comunque queste funzioni una volta che monterò il tutto le vedremo dal vivo comunque una volta che voi scegliete la potenza della luce che vi occorre spegnerete i fari una volta che riaccenderete i fari i fari si riattiveranno alla stessa potenza che voi potrete cambiare banalmente ruotando in senso orario o anti orario questa pulsantiera oltre a scegliere la densità l'intensità della potenza della luce potrete anche scegliere quale effetti strobo far fare ai fari stessi adesso vado a srotolare quello che il cablaggio vi faccio vedere quanto è semplice assemblare il cablaggio stesso quindi abbiamo abbiamo detto questo è il cablaggio questa è la pulsantiera che mettiamo qui per comodità qui c'è il fusibile a protezione di tutto il circuito questo il rosso che va la batteria questo è il nero che va la batteria poi salendo su abbiamo i due cavi che vanno ai fari montarli ad una semplicità imbarazzante perché c'è la guida non è possibile sbagliare c'è la guida sia al maschio che alla femmina ok vanno così quindi si inserisce uno dentro l'altro e poi c'è questa rotella che si stringe per evitare appunto che si possano scollegare questi altri tre fili più piccoli che si diramano dalla centralina il nero è quello che va alle trombe il verde è quello che va alla lampada anabagliante il rosso è quello che va all'accensione sul sito di sercomoto ovviamente troverete come l'ho trovato io i dettagli di come collegare questi tre fili il rosso all'accensione il nero alle trombe il verde andrà collegato al filo degli anabaglianti e mi soffermo in particolare su questo filo verde proprio per evitare incomprensione di qualsiasi tipo di genere ve lo dico anticipatamente io quel filo verde non lo collegherò perché perché il filo verde che va collegato agli anabaglianti a mio modo di vedere può andar bene su moto precedenti il modello mio ovvero se avessi un mezzo con un faro alogeno andrei sicuramente a collegare il filo verde al filo a degli anabaglianti avendo un faro al led che dialoga con una centralina bmw sicuramente non andrò a toccare i cablaggi della centralina originale ed è uno dei punti principali secondo me a favore proprio di sercomoto ho detto sin dal primo video in cui parlavo dei fari sercomoto che preferivo alla grande questo tipo di prodotto proprio perché creava un circuito parallelo a quello originale quindi lungi da me andare a toccare il filo dell'abbagliante della centralina che c'è sulla mia moto anche perché sinceramente non saprei neanche qual è quindi per quel che mi riguarda questo filo verde sicuramente rimarrà scollegato vi dicevo sarebbe stato diverso se avessi avuto un faro allogeno perché avrei sì collegato questo faro verde agli anabaglianti del faro è sempre con la pulsantiera fornita da sercomoto la figata qual era è che voi ruotando questa rotella darete potenza o toglierete potenza sia i faretti ma anche al faro principale della moto cosa ben diversa sul faro a led quindi il filo verde ve lo dico subito scordatevelo non lo collegherò collegherò invece il rosso ovviamente all'accensione che me li manterrà sotto chiave e collegherò il nero alle trombe perché la particolarità di questa centralina qual è che collegando la centralina alle trombe una volta che io userò il clacson che vi ricordo ho già due trombe della fiamma che quando suono faccio drizzare i capelli a chiunque comunque la particolarità qual è che quando io andrò a suonare il clacson i fari si accenderanno facendo l'effetto strovo quindi per una maggior sicurezza passiva a mio favore fermo restando che nel momento in cui io non volessi più far fare questo effetto sarà sufficiente scollegare il filo nero dalle trombe il discorso si chiude lì credo di avervi detto tutto su quello che sono le caratteristiche principali di questi prodotti che mi sono arrivati oggi adesso non resta che andare in box smontare quello che c'è da smontare sulla moto e poi iniziare a montare tutto quello che vi ho mostrato fino adesso ovviamente vi porterò con me per quel che concerne la parte elettrica vi farò vedere come collegare i fili dove li faccio passare io non è detto che sia la parte migliore ma vi farò vedere come li faccio passare e dove li faccio passare io ovviamente non vi porterò con me nella parte più noioso ovvero nello smontare le carene le plastiche e tutto quello che c'è da smontare ma vi porterò con me nelle parti salienti quelli che penso possono essere più comodi e più interessanti per voi quindi a questo punto non resta che andare in box e noi ci rivedremo direttamente dal garage allora ragazzi veniamo al dunque qui vedete tutti i fili fuori posto perché poi sistemerò tutto quanto a dovere ma quello che mi interessa adesso è farvi capire come ho collegato tutto quanto che è di una semplicità impressionante partiamo dalla batteria questo qui è il filo che porta sia il rosso che il nero ovviamente il rosso l'ho messo qui e il nero l'ho messo la batteria dalla centralina che è questa qui partono questi due cavi più grandi che sono i cavi dei fari che ovviamente uno lo farò passare da questa parte e lo farò scendere da quest'altra in maniera da andare alla lampada altro che questo qui farò la stessa cosa adesso in qualche maniera farò in modo di nascondere tutto qui dentro da un lato in maniera da arrivare alle lampade uno e uno due da questo lato come dicevo l'ho fatta passare qui poi metterò qualche fascetta qua e arriverò direttamente al faro stessa cosa farò da quest'altro lato tutta questa roba qui farò in modo di farla stare qui dentro facendola passare all'interno dalla centralina come vi dicevo prima partono altri tre piccoli fili nero rosso e verde il verde come vi ho detto non l'avrei collegato che è quello che se avete il faro halogeno allora vi consiglio di collegare agli anabbaglianti e con lo switch del pulsante riuscirete ad alzare e abbassare anche dal faro del bmw a questo non l'ho collegato il rosso praticamente ho preso la luce dalla presa del navigatore che è proprio sotto la strumentazione il nero l'ho collegato direttamente al relais dove ho le trombe al positivo in maniera che quando pigio il tasto del positivo gli strobo danno un colpo di flash e di una banalità estrema collegare tutto questo la pulsantiera è qui il filo del pulsante gli ho fatto seguire questo fascio di fili che parte dalla manopola di destra l'ho fatta arrivare qui e da qui poi sono entrato sul lato destro qui c'è il suo spinotto che va direttamente alla centralina centralina andrà nascosta lì chiudiamo tutto e facciamo un lavoro da serie a poi rimonterò le plastiche e tutto andrà come deve andare ovviamente una volta che finisco di fare tutto quanto andiamo fuori e vi faccio vedere tutte le funzioni della centralina e anche il collegamento al clacson che è una vera una vera figata per quel che riguarda la sicurezza passiva adesso non resta che armarsi di pazienza e rimontare tutto e fare un bel lavoro ecco qua questo il frontale della mia moto e si va a vincere facile adesso non resta che la prova su strada adesso grazie all'aiuto di questo cavalletto vi farò vedere come funzionano questi sm 10 12 sd una volta che si accendono quando accendiamo la moto fanno un check e danno una sfana latina allora innanzitutto così sono accesi questa rotella qui si può aumentare questo è il massimo e questo è il minimo della potenza poi con un clic praticamente si spengono un clic si accendono tengo premuto per due secondi inizia a fare un effetto strobo premo altri due secondi effetto strobo cambia idem altri due secondi fa quest altro effetto e poi c'è un ultimo effetto che è questo qui un clic si spegne ragazzi c'è un vento letteralmente forte e gelido in questo momento sono uscito perché voglio farvi vedere che potenza di fuoco hanno questi fari e sono curioso di vederlo anch'io perché già i 7 1 2 1 sono una bomba non si immaginate questi cosa sono adesso prendo questa stradina qui di fianco alla mia sinistra che praticamente non è illuminata eccola qua vedete qua questo è il faro originale bmw con i faretti bmw adesso accendiamo il 10 12 sd questo è al minimo che questi alla massima potenza questo è spento e questi al massimo pensa che ci sia poco da da aggiungere qui forse da più il senso allora spento questo il faro bmw questo è al massimo così può regolare e si abbassa l'intensità questi al 10 per cento 10 per cento e già al pari diciamo del fari bmw visto che ci siamo adesso a costa vi faccio vedere l'effetto che non ho fatto vedere prima di quanto utilizzo la tromba quando si utilizzano le trombe l'effetto che fa è questo mi pare estremamente tanta roba la sicurezza siamo al cento per cento qua bene che dite adesso vi faccio vedere anche di notte questa è al minimo della potenza diciamo che a potenza di fuoco siamo decisamente messi bene questo è il minimo eccolo qua questo è il massimo diciamo che questa è senza e queste con sm10 sd allora ragazzi adesso torno a casa inizio a scaricare i file e inizio a lavorare sui video credo di avervi detto tanto se non tutto mi ha fatto vedere passo passo come montarlo e montarle veramente una banalità i prodotti sono di estrema qualità grazie per il prossimo video